Bene, buonasera a tutti, buonasera a tutti, grazie, bentrovati qui questa sera, uscire con queste temperature è già un grande atto di fede nei confronti di chi parlerà dopo di me, quindi vi ringrazio anche a nome loro. Buonasera, buonasera a tutti di nuovo, questa sera è una serata molto importante per Casalecchio di Reno e in generale per tutto il territorio dell'Unione Reno-Lavino-Samoggia perché il 18, fra pochi giorni, il 18 di dicembre inaugureremo a Casalecchio di Reno, come c'è scritto qua, a partire dall'inaugurazione il nuovo centro di assistenza urgenza, il CAU, un luogo, un termine, una sigla che ancora non conosciamo, che impareremo a conoscere e che la serata di questa sera ci aiuterà a capire qual è il suo ruolo e quali sono le modalità per vivere e per frequentare questo luogo. Prima di chiamare, vedete delle sedie stasera abbiamo tanti ospiti, io chiamo ovviamente il padrone di casa, il sindaco di Casalecchio di Reno, Massimo Boss. Ci sediamo qua, ci mettiamo, ci accomodiamo, ci accomodiamo. Bene sindaco, allora abbiamo detto il 18 di dicembre la nostra casa della salute, che poi impareremo stasera che molto presto cambierà anche un po' il nome in casa della comunità, ma la nostra casa della salute inaugurata nel 2015 conquista un ruolo maggiore e ancora più importante per la vita di tutti i giovani e di cittadini. Sì, buonasera a tutti e a tutti, noi l'abbiamo inaugurata nel 2015, ricordo che questa casa della salute è costata 12 milioni di euro pagati dai cittadini di Casalecchio, nel senso che erano gli oneri di urbanizzazione di una parte della meridiana, c'è ancora un mutuo di 3 milioni ma è compensato dagli affitti che ASL paga e quindi praticamente è un'operazione conclusa ma è stata finanziata da Casalecchio e quindi è una struttura nata a differenza di altre case della salute proprio allo scopo di essere tale, non è stato un edificio riadattato a quello scopo, è nata proprio come casa della salute che diventerà casa di comunità perché c'è una norma che lo prevede ma insomma sostanzialmente voi avete visto in questi anni, dal 2015 non è poi passato tantissimo tempo, però avete visto un salto di qualità, chi come me si ricorda com'era prima il poliambulatorio in via Garibaldi c'è stato da giorno alla notte ecco, non c'è più neanche il poliambulatorio in via Garibaldi non c'è più, dopo quello è stato rifatto anche quello, comunque lì è la sede dei servizi sanitari e sociali perché non dimentichiamoci che l'integrazione sociosanitaria è molto importante perché le persone molto spesso hanno problemi sanitari e sociali, pensiamo alla fascia degli anziani, alla disabilità, tanti altri temi, per cui c'è accanto agli sportelli sanitari, al cupo c'è lo sportello sociale, poi bisognerà sempre integrarli di più ecco in futuro, però insomma intanto è una struttura adatta a fare un salto di qualità anche attraverso questa riorganizzazione molto importante del servizio di pronto soccorso, per cui sta dentro una logica di miglioramento del servizio e noi avremo un servizio in più a Casa Lecchio, cioè è proprio in più che riguarda non solo i cittadini di Casa Lecchio ma anche tutti quelli dell'area, tant'è che qui c'è il sindaco Dall'Omo di Zola Predosa e anche gli altri sindaci qui attorno sono interessati perché Casa Lecchio ha una struttura che si presta nella dirittrice bazzanese porretana ad avere anche con i mezzi di trasporto pubblico o privato ad avere un'utenza ampia. Abbiamo un cantiere lì vicino, va detto, della porrettana, per questo sono stati rifatti dei parcheggi velocemente nella parte che dà verso la rotonda Biagi e ne verranno degli altri dalla parte opposta, quindi in realtà il cantiere inciderà quasi niente sul servizio perché abbiamo fatto in modo con ANAS che sta facendo i lavori di compensare quelli che sono i parcheggi, le entrate eccetera eccetera. Quindi è un po' questo il tema. Questa operazione si inquadra in un tema di sanità pubblica che voi sapete in questo momento ha qualche difficoltà perché a livello nazionale insomma bisognerebbe finanziarla di più, c'è anche una proposta di legge della regione Emilia Romagna per agganciare al PIL una quota in modo tale da garantire nel tempo un finanziamento più forte che negli altri paesi europei è più forte di quello che avviene in Italia. E diciamo che abbiamo visto con la pandemia, qui ci sono anche le associazioni che hanno gestito assieme a noi quel periodo tragico, perché vi ricordate all'inizio non si sapeva mica che cos'era il Covid, quindi c'erano delle paure e delle incertezze rilevantissime. Quindi abbiamo visto che la sanità pubblica forte ha aiutato a uscire meglio qui da noi in Emilia Romagna rispetto ad altre regioni di cui non voglio fare il nome, ma abbiamo visto la differenza, quindi non ci si può dimenticare di quel periodo e bisogna finanziare la sanità pubblica. Il centro di urgenza è una novità importante, noi in qualche modo a Casalecchio quando venne inaugurata la Casa della Salute nel 2015 ci avevamo pensato, però adesso è diventata una proposta molto articolata perché pensavamo al primo soccorso, perché andare al pronto soccorso del maggiore se hai una cosa lieve, ecco adesso è stata strutturata un'operazione perché i pronti soccorsi hanno delle difficoltà e molti di voi sarà capitato di andare in codice verde, codice diciamo di non gravissima urgenza e di star lì ore e ore e ore se non una giornata intera, per cui oggettivamente quest'operazione avvicina la sanità, diciamo quando non è particolarmente grave la situazione al cittadino, per cui non hai tempi lunghi, avrai la possibilità di avere medici e infermieri qui vicino invece di inserirsi in un contesto di pronto soccorso che oggettivamente, naturalmente deve affrontare prima le grandi emergenze, gli incidenti, quello che arriva di estrema urgenza naturalmente, però ecco questo è proprio un salto di qualità, di riorganizzazione che poi sentiremo che è veramente importante e che aumenta i nostri servizi. Bene, grazie, grazie molto sindaco, ascolteremo con molta attenzione quello che ci verrà raccontato stasera. Allora adesso chiamo sul palco colui che ha voluto insieme al sindaco Bosso questa serata, proprio perché è colui che insieme alla struttura regionale ha ideato, ha creato, è arrivato al traguardo che il 18 taglieremo qui a Casalecchio, ma poi in realtà è un traguardo che si sta pian piano tagliando in tutta la regione Emilia Romagna. Quindi io prima di dire un'altra cosa che però voglio dire con lui accanto, vi chiedo un grande applauso per l'assessore alle politiche per la salute della regione Emilia Romagna, Raffaele Donini. Buonasera. Raffaele, io prima di lasciarti, ci diamo del tuo assolutamente, prima di lasciarti il palco voglio solo dire una roba, avete affrontato in questi quattro anni di mandato delle emergenze inattese, inaspettate e enormi e stasera presentate, presenterete insieme all'ASL un traguardo molto importante, una vera e propria rivoluzione. Però permettimi, dopo me ne vado e vi ascoltiamo, di chiedere un grande applauso a questo pubblico che è a Casalecchio per voi, per l'ASL di Bologna e per il tuo tramite, per tutti gli operatori sanitari, per il grande, enorme lavoro che avete fatto per far uscire la regione Emilia Romagna dai durissimi mesi del Covid. Sì, bisogna anche ricordarseli quei mesi, quei 18 mesi terribili, forse qualcuno di più, perché poi sono anche all'origine di alcuni problemi che abbiamo ancora oggi, no? Le famose liste d'attesa, i tempi di attesa delle prestazioni specialistiche, diagnostiche, chirurgiche di bassa complessità. Però ci stiamo lavorando e assieme alla buona squadra dei nostri direttori generali, stiamo studiando tutta una serie di provvedimenti, più o meno come l'emergenza urgenza, per affrontare insieme ai nostri dirigenti dell'assessorato questi problemi, perché bisogna guardarli i problemi, non tacerli, guardarli in faccia e cercare le soluzioni. Bene, allora ti ascoltiamo molto volentieri. Grazie Francesco, grazie Sindaco, grazie a voi per essere qui, abbiamo organizzato non in tantissimo tempo questa serata, ma ci tenevamo a farla prima dell'inaugurazione, poi è chiaro che l'informazione non finisce qui, continuerà in modo anche massiccio dopo l'inaugurazione, in modo che il servizio che noi istituiamo anche a Casalecchio di Reno, nella casa della comunità di Casalecchio, possa essere conosciuto il più possibile da tutti i cittadini e da tutti i professionisti. Allora io ho detto prima una cosa che per un amministratore dovrebbe essere la regola, cioè non negare i problemi che ci sono e noi abbiamo appena messo un po' la testa fuori dalla pandemia, ci siamo resi conto che uno dei primissimi settori, ambiti che andava in sofferenza, ma una sofferenza molto consistente, era proprio quello dell'emergenza urgenza. Ricorderete durante il Covid avevamo il problema contrario, ai pronti soccorsi non ci andava nessuno, addirittura dovevamo andare a prendere a casa i cittadini che non si fidavano più di andare al pronto soccorso, avevano paura anche quando avevano dei sintomi gravi, ma dal 2022 gli accessi al pronto soccorso sono tornati progressivamente come quelli che erano prima del Covid, anzi un pochino di più. Quello che non è tornato come i tempi prima del Covid è la consistenza del nostro personale sanitario nei pronti soccorsi. e noi abbiamo notato, forse tra i primi in Italia consapevoli di questo problema, che non era un problema, né che riguardava solo l'Emilia Romagna, anzi forse noi un pochino meno di altre regioni, ma riguardava tutta l'Italia. Secondo che non si poteva risolvere con gli strumenti tradizionali. Quali sono gli strumenti tradizionali? Venivano meno i medici di emergenza e urgenza nei pronti soccorsi e noi facevamo bandi per reclutarne altri, ma quei bandi andavano deserti. E allora anche noi, come molte regioni in Italia, abbiamo fatto per paura di chiuderli quei pronti soccorsi, soprattutto quelli piccolini, abbiamo fatto ricorso anche ai cosiddetti medici a gettone, le cooperative che offrivano servizi medici, ma ci siamo resi subito conto che quello era un problema in più, anziché la soluzione, perché accelerava l'uscita dal servizio sanitario pubblico dei nostri professionisti. È chiaro, se metti a lavorare accanto, uno accanto all'altro, un medico dipendente, strutturato, in pianta organica che vive quella situazione, poi ci metti medici che magari ruotano durante la settimana perché sono affidati a cooperative, che non sempre conoscono l'ambiente, non sempre hanno la stessa dimestichezza o professionalità di quelli strutturati che stanno lì e poi prendono il doppio e quelli che sono lì, i nostri dipendenti, cominciavano a accelerare l'uscita del sistema e quindi abbiamo subito posto fine a questa ulteriore esperienza. E tra l'altro lì, una delle poche volte in cui il governo ci ha ascoltato, il ministro ci ha ascoltato perché ha inserito nel decreto, legge del governo, proprio la impossibilità di continuare dopo il 31-12 di quest'anno con i cosiddetti medici a gettone. Noi ne abbiamo fatto un uso limitatissimo e circoscritto, ci sono regioni che ne hanno fatto un uso abbondantissimo e che appunto adesso sono molto nei guai perché hanno fatto ricorso sostanzialmente a questa forma di esternalizzazione. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo approfondito, qui vedo Fabio e Franchi tra le nostre file, con i nostri dirigenti in regione, con i nostri direttori generali, abbiamo approfondito uno studio molto profondo, molto analitico, molto esteso di tutto quello che riguardasse l'emergenza urgenza e siamo andati avanti un anno a studiare per studiare il problema, per capire cosa comportasse appunto questo problema e soprattutto il grado anche di stress dei nostri professionisti dentro ai pronti soccorsi e insieme a loro abbiamo cominciato a scrivere una riforma che oggi è forse, anzi senza forse, l'unica alternativa credibile a livello nazionale sia alla desertificazione dei pronti soccorsi e delle strutture sanitarie, cioè mancano i medici, si chiudono, mancano i medici, si chiudono, dove prima c'era un pronto soccorso non c'è più, dove prima c'era una struttura sanitaria non c'è più, dove prima c'era un servizio non c'è più e vi garantisco che non riguarda soltanto le regioni del sud ma anche altre nostre regioni confinanti che hanno interi territori privi del servizio di emergenza urgenza, noi non abbiamo questa situazione ma non vogliamo neanche arrivarci, così come non vogliamo arrivare nemmeno ad una soluzione che alcune regioni, una qui vicino a noi, ha trovato per risolvere il problema, cioè privatizzare strutture private a cui il cittadino accede a pagamento, se ha un problema di bassa criticità viene risolto lì con 120 o 180 euro e se ha un problema di complessità maggiore viene mandato all'ospedale pubblico. Ecco questa nostra proposta non appartiene alla storia della regione Emilia Romagna, per cui noi abbiamo guardato, stressato diciamo così i fattori del problema abbiamo cercato insieme ai nostri operatori una soluzione e non è un caso che qualche settimana fa, anzi ormai sono passati un paio di mesi, le principali società scientifiche dell'emergenza urgenza sono venute tutte in Emilia Romagna a dire che questo è un modello giusto per affrontare il problema e vediamo qual è il problema, la prima slide lo rende evidente, il problema è proprio questo, vedete ci sono oggi come oggi circa 1100 professionisti di emergenza urgenza, nei prossimi due anni andranno in pensione oltre 5000 di loro, ne arriveranno 1400 erotti. Ora chi non vuole vedere i problemi dice ci pensiamo poi cammin facendo, ma cammin facendo significa che non avendo più le professionalità per tenere aperti i pronti soccorsi, quei pronti soccorsi si chiudono e questa è una situazione a cui noi non vogliamo assolutamente arrivare. Altra immagine molto interessante è questa, la seconda, che per esempio vedete la torta, il 66, quasi il 70% di prestazioni che si erogano, si fanno nel pronto soccorso rappresentano dei bisogni di salute a bassa criticità, i codici bianchi e i codici verdi, attenzione perché i codici bianchi e i codici verdi sono prestazioni differibili per legge, è chiaro che un cittadino non si può colpevolizzare, se va al pronto soccorso non è che ci va con la stessa leggerezza con cui va a un centro commerciale, va al pronto soccorso perché avverte su di sé un bisogno urgente di salute, che deve essere giustamente valutato da un medico, ma non necessariamente visto che non è un bisogno a rischio vita, quel medico debba essere un medico di emergenza urgenza, un medico anestesista o un medico reanimatore, deve essere un medico capace di leggere il bisogno di salute, dargli una terapia, una soluzione e come avviene nella stragrande maggioranza dei casi noi abbiamo appunto il ritorno a casa del cittadino. Abbiamo indagato tutti gli accessi per un anno intero al pronto soccorso dell'Emilia Romagna e vediamo la terza slide che è molto schematica ma ci dice sostanzialmente due cose, e cioè che quasi l'80% del 1.800.000 accessi al pronto soccorso in Emilia Romagna, quasi l'80% di questi, delle 53 strutture di pronto soccorso che noi abbiamo sul territorio, si concentra in 20 strutture. Qui banalmente l'ospedale Maggiore, l'ospedale Sant'Orsola, Ventivoglio e Imola. Stiamo parlando di un flusso enorme di accessi ai pronti soccorsi, l'Emilia Romagna ha 53 strutture di pronti soccorsi ma l'80% dei cittadini va in 20 strutture, che sono le strutture hub, appunto quelle che ho detto qui in provincia, nella città metropolitana di Bologna. E quasi l'80% dei cittadini ci va con le proprie gambe. Ora per riorganizzare i pronti soccorsi bisogna capire perché sono nati i pronti soccorsi. Sono nati per dare una risposta in emergenza a un cittadino che spesso rischia la vita o comunque ha una situazione clinica molto grave e che necessita di un intervento tempo dipendente da parte di un professionista esperto in emergenza, urgenza, un rinimatore, un anestesista, un professionista che ha studiato per fare quelle cose lì. E quindi siamo partiti dalla cosa più importante, cioè come possiamo migliorare la presa in carico dei cittadini che necessitano di interventi tempo dipendenti. Abbiamo per esempio monitorato tutti gli infarti della regione Emilia Romagna nel 2022. Sono un po' in calo ma ci sono ancora, ed è ricordo le malattie cardiovascolari sono ancora la prima causa di decesso in Italia e anche in Emilia Romagna e abbiamo visto che il 60% dei cittadini che ha avuto un infarto ha chiamato il 118 o comunque qualcuno vicino loro ha chiamato il 118 e in 73 minuti dal momento della chiamata quel cittadino era in emodinamica o comunque in terapia d'urgenza nella struttura più adeguata possibile per salvargli la vita. E questa è la differenza tra la vita e la morte perché molti di questi sono appunto salvi, sono persone che poi l'infarto l'hanno superato e conducono una vita pressoché normale per quanto appunto diciamo soggetti a dei follow up o comunque delle terapie. Pensate che 73 minuti, a noi siamo un tempo enorme, ma il tempo ottimale definito dalla legge è 90 minuti. Quindi noi siamo ben sotto quasi 20 minuti più veloci di quello che la legge definisce come tempo ottimale di presa in carico di una persona che ha un infarto da quando chiama a quando è sul lettino dell'emodinamica. Quindi vuol dire che il 118 nostro funziona. Funziona bene, funziona grazie ai professionisti, grazie ai volontari, grazie alle associazioni, grazie a tutti diciamo così l'organizzazione del 118 che noi abbiamo e che noi abbiamo voluto cercare di migliorare. Come? Tanto mettendo mano al portafoglio e acquistando la migliore tecnologia possibile per quello che riguarda l'elisoccorso. Oggi noi abbiamo la flotta degli elicotteri, dell'elisoccorso più moderna, più tecnologicamente avanzata che c'è in Italia. Vogliamo molto di più di prima, non so se siamo al 200% o 300% in più di voli rispetto a prima. Atterriamo in 270 piazzole in tutta la regione miglia romagna, prima erano qualche decina, vogliamo anche di notte, abbiamo il verricello per certi interventi anche nelle zone più impervie, da qui all'Appennino ci mettiamo 10 minuti e quindi abbiamo potenziato innanzitutto proprio quello che è il classico intervento tempo dipendente, grazie a Dio uno non rischia di morire tutti i giorni, però se c'è quella volta che c'è un infarto, un ictus o un politrauma che lo mette a rischio vita, noi oggi siamo in grado di prestare un migliore soccorso rispetto a prima. Secondo, abbiamo riorganizzato i mezzi avanzati di soccorso, non ci siamo sottratti al dibattito automediche, non automediche, la legge è molto chiara, le regioni le applicano tutte uguali, la legge definisce non l'automedica o l'auto, ma definisce il mezzo avanzato di soccorso a leadership medica o a leadership infermieristica, è la centrale 118 che decide che mezzo mandare, in che tempi, con che professionalità e noi siamo coperti, siamo coperti perché abbiamo un rapporto di gran lunga superiore a quelle che sono gli standard nazionali e poi abbiamo inserito il medico nella centrale operativa 118, prima non c'era, adesso c'è, è un supporto in più, perché è un supporto in più? Perché appunto è da supporto clinico alle operazioni di soccorso, già contribuisce ad instradare il percorso di presa in carico del cittadino che in quel momento ha bisogno di soccorso nella struttura che presto lo ospiterà, dopo qualche minuto lo ospiterà e cercherà di metterlo nelle condizioni migliori per salvargli alla vita e quindi è un qualcosa in più che noi abbiamo messo nella centrale 118 che beneficia anche di questa opportunità. Quindi sul fronte emergenza noi abbiamo la possibilità di migliorare ancora, altro che crisi, abbiamo la possibilità di arrivare anche, adesso noi arriviamo in 16 minuti in media dal momento in cui il cittadino telefona per qualsiasi motivo, il 118 è il momento in cui lo andiamo a prendere, ma possiamo arrivare anche sotto il quarto d'ora, la media nazionale è sui 20 minuti, siamo molto performanti, il nostro 118 funziona, funzionerà ancora meglio e cercheremo per esempio di investire in tecnologie in modo che ogni ambulanza, ogni mezzo avanzato di soccorso possa avere quella tecnologia digitale collegata sostanzialmente alla centrale e gli altri mezzi in modo da avere ancora una maggiore performance di prese in carico. E questo è il primo, perché se si parla di CAO si deve parlare di emergenza urgenza, partiamo dalla cosa principale, noi stiamo migliorando le prese in carico dei cittadini che rischiano la vita, questa è la prima funzione del pronto soccorso del 118. Poi dobbiamo raggiungere altri due obiettivi, il primo è quello di intercettare sul territorio, nell'ambito delle cure primarie, tutte quelle prestazioni di bassa criticità che attengono, che riguardano i bisogni di salute dei cittadini, che il cittadino avverte come urgente appunto, che necessitano di una valutazione medica ma non necessariamente di un medico anestesista, rematore o di emergenza urgenza. E dove li mettiamo, dove li prendiamo in carico quei cittadini? Ecco i centri di assistenza per l'urgenza. Come abbiamo pensato, diciamo così, di quali figure professionali abiteranno i centri di assistenza per le urgenze? Insomma, intanto sono strutture, non sono ambulatori. Sono strutture vuol dire che ci saranno medici di continuità assistenziale, medici in formazione specialistica, ci saranno infermieri, anche infermieri di emergenza urgenza, ci saranno anche volontari, ci saranno tecnici, ci saranno amministrativi, ci saranno operatori sanitari, quindi sono strutture vere e proprie. Strutture che tendenzialmente, come quella di Casalecchio, avranno apertura H24 sette giorni su sette, 365 giorni all'anno e servono ad accogliere le urgenze dei cittadini che non hanno la possibilità in quel momento di recarsi o di avere appuntamento col medico di medicina generale perché sono in una situazione di urgenza. Chiaro che lo facciamo riorganizzando le forze che abbiamo, non è che abbiamo moltiplicato i medici nel frattempo, quindi lo facciamo attraverso la riorganizzazione della continuità assistenziale, del cosiddetto medico di guardia. Il medico di continuità assistenziale in Emilia Romagna ha queste performance e quindi va assolutamente valorizzato di più perché oggi sostanzialmente compone un consulto medico telefonico ogni due ore, visita un paziente ogni cinque ore e va a domicilio di un paziente ogni 26 ore, ma questi sono medici e noi non possiamo tenere queste professionalità in una situazione di questo tipo. Dobbiamo offrire loro una valorizzazione professionale, dobbiamo farli sostanzialmente, invitarli riorganizzando la continuità assistenziale a fare in modo che sempre più medici di continuità assistenziale trovino attraente lavorare nei centri di assistenza per l'urgenza. Si diceva non verrà nessuno, abbiamo fatto i primi bandi, servivano mi pare una trentina di medici, si sono presentati 90 medici. Perché? Perché chi fa il medico preferisce lavorare in una struttura che non lavorare da solo, preferisce lavorare insieme ad altri professionisti che non trovarsi in un ambulatorio da solo, preferisce avere delle tecnologie diagnostiche a disposizione piuttosto che il solito stettoscopio, preferisce avere un consulto con professionisti dentro una struttura in cui ci si confronta con pazienti che si vedono continuamente perché è una loro crescita professionale, preferisce prendere di più che prendere di meno perché sono anche ovviamente incentivati. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo buona ragione di ritenere che sempre più medici di continuità assistenziale saranno interessati, soprattutto giovani ma non solo, a lavorare nei CAO e anche abbiamo ricevuto la disponibilità di medici in formazione specialistica che non sono studenti, sono medici, sono medici laureati in medicina con una laurea abilitante, fanno magari, che ne so, i cardiologi alla Sant'Orsola piuttosto che gli urologi al maggiore piuttosto che i chirurghi da qualche parte, cioè si stanno specializzando, a volte sono anche al quarto, quinto anno di specialità, quindi sono praticamente già annoverabili fra quelli che potremmo assumere, anzi dal decreto Calabria potremmo assumerli già dal terzo anno e ci hanno chiesto loro di poter lavorare nei CAO, perché? Perché loro possono già fare della continuità assistenziale e quindi tra le due opzioni preferiscono mettersi a disposizione nei centri di assistenza per le urgenze piuttosto che stare appunto da soli a lavorare in solitudine. Altra slide quindi per far vedere un po' la curvatura, il covid ha un po' cambiato le abitudini, guardate la striscia, quella sotto diciamo che è la striscia rossa mi pare, sono le visite, guardate che sono meno il 60%, dal 2018 c'è stata 19, c'è stata la curvatura, stanno un pochino riprendendo le visite ambulatoriali, le prestazioni ambulatoriali ma sono sempre molto distante dalla linea gialla che sta giganteggiando che sono appunto i consulti telefonici. Ecco noi pensiamo che i medici di continuità assistenziale siano più orientati a lavorare nelle strutture insieme ad altri professionisti piuttosto che dare consulti telefonici e quindi questa è un'opportunità che diamo ai nostri professionisti. avanti, questo quindi è sostanzialmente cosa fa il CAO, adesso lo spiegheranno molto bene la dottoressa Camplone, il dottore Fini e il direttore Bordon, però il CAO è un riferimento per tutti i cittadini per i bisogni di salute urgenti a bassa criticità e qui viene il bello perché i detrattori dei CAO ovviamente non si sono fatti mancare e hanno cominciato a dire ah ma voi mettete in condizione i cittadini di diagnosticarsi da solo dove andare, per cui deve essere il cittadino a capire se ha un codice verde o un codice rosso, niente di tutto questo saremmo stati stupidi ovviamente anche se un cittadino sa benissimo che ci sono bisogni di salute per i quali non rischia la vita ma che ritiene urgenti e ci sono bisogni di salute che invece necessitano di un intervento in emergenza del 118. però noi siamo tutti collegati, siccome questa esperienza dei CAO l'abbiamo sperimentata a Cervia e in un anno il CAO di Cervia ha fatto 12.000 accessi, esattamente quelli che erano per il soccorso precedente, quando siamo andati a festeggiare i 12.000 accessi io ero presente personalmente, un signore distinto si è presentato con un dolore toracico, è chiaro che con un dolore toracico non vai al CAO, con un dolore toracico chiami il 118 per salvarti la vita. Quel signore era arrivato al CAO perché magari si è preso paura, è andata alla prima struttura che ha trovato aperta, il medico ha visto che ovviamente si trattava di un problema serio, l'ha immediatamente barellato, gli ha fatto l'elettrocardiogramma, in telemedicina il primario mi pare di Ravenna, cardiologo, ha letto immediatamente che si trattava di un infarto, l'ambulanza l'ha preso, l'ha centralizzato immediatamente a Cesene, in emodinamica e la persona si è salvata. È ovvio che i centri di assistenza per le urgenze sono dentro le cure primarie, ma le cure primarie sono anche dentro una rete più vasta che contiene anche l'emergenza urgenza. Uno dice ma se io per un bisogno di salute di bassissima criticità perché mi gira il dito, vado all'ospedale maggiore, mi cacciano? No, non ti cacciano, però stai lì un weekend. Perché è chiaro che prima ci sono tutti i casi gravi che devono trattare i medici di emergenza urgenza. Se invece uno pensa di avere un bruciore allo stomaco o un dolore intriscapolare e va al cao dicendo che forse aveva mangiato troppo e il medico magari, perché lì c'è la diagnostica, gli fa il POCT, gli fa, che sono gli esami del sangue, gli fa un'ecografia, gli fa un elettrocardiogramma e capisce che è un problema serio viene immediatamente centralizzato. In questo caso l'ospedale maggiore o comunque la Sant'Orso, l'ospedale hub, ma viene centralizzato da una struttura, non da uno che passa per di lì. Quindi noi rendiamo in realtà più sicuri i cittadini che nel centro di assistenza per l'urgenza troveranno tutte le risposte, e i numeri ci stanno dando ragione, sindaco, anche qui ci aspettiamo dei numeri importanti, troveranno tutte le risposte che di solito trovano al pronto soccorso dopo tanta tanta attesa per una prestazione che potrebbe essere erogata tranquillamente da un medico, anche se non è un medico reanimatore, anestesista o di emergenza urgenza. Se ci fosse invece qualche problema, ed è capitato anche nei CAO che abbiamo aperto, anche in questi giorni, di maggiore approfondimento, una fibrillazione atriale piuttosto che altri problemi, è chiaro che il cittadino viene immediatamente centralizzato nella rete dell'emergenza. Questa è appunto più o meno la geografia dei CAO, dove andranno i CAO, dove saranno costruiti i posti i CAO? Saranno innanzitutto nelle case della comunità, stiamo parlando di strutture territoriali, di cure primarie, quindi è la risposta del territorio. D'altra parte noi sotto pandemia abbiamo scritto una cosa molto bella, molto importante, che è il DM 77, che io definisco la carta costituzionale della sanità territoriale e abbiamo detto che dobbiamo investire sul territorio. Noi abbiamo le case della comunità in Emilia Romagna, ne abbiamo 130 su 500 che sono a livello nazionale, usiamole per metterci dentro questi centri di assistenza per urgenza che, badate, entro il 2024 saranno equivalenti come numero alle strutture di pronto soccorso. Quindi noi avremo più o meno 50 pronti soccorsi in Emilia Romagna e avremo una cinquantina di centri di assistenza per urgenza in Emilia Romagna. Qui a Bologna, l'avremo qui a Casalecchio, l'abbiamo a Navile, l'avremo presto nei pressi del Sant'Orsola, penso che l'avremo anche vicino nei pressi dell'ospedale Maggiore perché è chiaro che dobbiamo drenare da lì il più possibile, immagino anche nei vari distretti, Crevalcore piuttosto che altre strutture e pian piano costruiremo appunto questa rete territoriale capace di dare risposte in urgenza al cittadino. Ma i CAO tolgono il rapporto fiduciario rispetto al medico di medicina generale? No, il medico di medicina generale resta il riferimento del cittadino per ogni tipo di situazione che non sia in emergenza. Però ci sono delle situazioni che noi registriamo quotidianamente, voi per il sovraccarico di assistiti ai medici di medicina generale, voi perché sono in minor numero rispetto a quelli che dovremmo avere, voi per tante considerazioni che ci sono dei casi, dei momenti in cui si ha un'urgenza e noi offriamo un servizio in più, coordinati col medico di medicina generale perché poi uno quando è stato al CAO ed è stato dimesso viene immediatamente, diciamo così, rimandato tra virgolette la sua situazione, non lui fisicamente ma digitalmente, i dati arrivano comunque anche al medico di medicina generale che si accorge di questa cosa e può tenerne conto. Ora io chiudo perché ho già passato i minuti a disposizione dicendo questo. Questa riforma ha delle ambizioni molto alte, le ho dette, migliorare i tempi di intervento quando c'è a rischio la vita del cittadino, gestire sul territorio i casi che sono di bassa complessità, di bassa criticità e soprattutto scritta con la condivisione dei professionisti. Non è un caso che l'Emilia Romagna abbia rallentato l'uscita dal sistema dei nostri professionisti. Chi ha studiato e si è specializzato in emergenza e urgenza vuole fare il medico di emergenza e urgenza, non vuole occuparsi di prestazioni e di bisogni di salute, di bassa, bassissima criticità. Non è che non voglia perché è egoista, non vuole perché è più prezioso e più utile quando si occupa di quello che ha studiato che è volto diretto a salvare la vita del cittadino. Ma di più questi nostri medici, infermieri che lavorano nei pronti soccorsi, quando gli si va a parlare certo il tema della retribuzione è la condizione necessaria, ma non sufficiente affinché rimangano lì. Affinché rimangano a lavorare nelle nostre strutture, noi dobbiamo metterli in condizione non solo di avere una migliore retribuzione, ma anche avere una migliore organizzazione del lavoro e una migliore stile di vita, perché ci sono persone, professionisti, che ci fanno tanti turni di notte, che non vedono mai la loro famiglia, che sono stressati, c'è anche il tema a volte della violenza, nei pronti soccorsi, quindi dobbiamo essere consapevoli che questa riforma scritta insieme a loro è anche per loro un motivo in più per rimanere nel sistema pubblico e rimanere con l'auspicio, la fiducia e la speranza che nel giro di un periodo non enorme noi possiamo ribaltare la situazione e fare in modo che nei centri di assistenza per l'urgenza si gestisca la bassa criticità e nei pronti soccorsi sia sempre più consistente l'intervento dei medici di emergenza e urgenza, gli animatori e gli stesisti per salvare la vita dei cittadini nelle operazioni, negli interventi tempodipendenti. Questa è la riforma della Regione Emilia-Romagna, presto diventerà sicuramente, non a caso ieri, quando è che abbiamo organizzato, Navile è stato ieri, c'erano una flotta di dirigenti, ispettori, non so cosa siano, dell'Agenas che è l'Agenzia delle Regioni, non a caso il Ministro della Salute ci sta osservando perché noi siamo l'unica Regione che ha messo in campo un sistema, una riforma che può scongiurare da un lato la desertificazione dei servizi e dall'altro la privatizzazione degli stessi. Grazie. Allora adesso io mi siedo, la scaletta prevede questo, mi hanno detto, e chiamo sul palco il direttore dell'ASL Paolo Bordon, il dottor Paolo Bordon, il direttore generale, la dottoressa Ilaria Camplone che è la direttrice del distretto, il dottor Massimo Alessandro Fini che è il dirigente dell'assistenza territoriale. Allora io lascio la parola al direttore Bordon e poi la dottoressa Camplone e il dottor Fini avranno anche loro qualche slide più nel dettaglio per fare informazioni. Buonasera a tutti da parte mia, ha già introdotto molto bene l'assessore e poi entreremo nei dettagli con chi mi seguirà. Io sono stato qui la prima volta, ricordo, invitato dal sindaco Bosson nel luglio 2020, ero appena arrivato a Bologna, era una serata molto calda, molto bella, perché stavamo festeggiando loro, i volontari, ricordo, per quello che avevano fatto durante la prima ondata. Poi purtroppo è andata come è andata, però lo spirito che c'era in questa comunità si era capito molto bene e ricordo, come ha anticipato il sindaco prima, ricordo l'orgoglio con cui mi aveva presentato la Casa della Salute, per noi già Casa della Comunità, costruita e inaugurata nel 2015 con le risorse dei casali chiesi, giusto? E ricordo proprio molto bene questo senso di appartenenza, questo orgoglio a una struttura e abbiamo detto sarebbe bello che questa struttura potesse funzionare 24 ore, 365 giornali, per sfruttare al massimo questo investimento. Questo sogno, questo progetto, finalmente si realizza. Si realizzerà dalla prossima settimana ancora un aumento di un percorso che ha descritto molto bene l'assessore, che è nato da un'analisi di studio, approfondimento a livello regionale, aziendale, ma che alla fine porta con l'aiuto di molte persone al raggiungimento di questo obiettivo, a rafforzare le cure primarie di questa comunità, che è il primo obiettivo, cioè noi avremo un rafforzamento dal nostro livello organizzativo di presa in carico, perché ovviamente il medico di medicina generale resta il protagonista della sanità sul territorio, ma noi mettiamo un servizio in più aggiuntivo molto prezioso, non solo per i risvolti rispetto alla connessione con il pronto soccorso, in particolar modo il maggiore per questa comunità, ma perché pensiamo che sfruttando le potenzialità di questa casa della comunità, ad esempio la vicinanza con la radiologia e con altri servizi, si possa effettivamente offrire a questo contesto un servizio moderno, funzionale, quello che il cittadino in qualche modo aspettava da tempo. Per cui è con soddisfazione che ritorno qui a presentare stasera questo modello organizzativo. Noi rispetto un po' al contesto, giusto due informazioni generali di azienda, che è molto grande e abbraccia tutto il contesto dell'area metropolitana. Noi abbiamo dovuto iniziare a lavorare sui CAO rispetto a quella che era una possibilità prevista dalla delibera della giunta regionale, cioè che questo modello che nasce principalmente per essere realizzato in strutture come quelle di Casalecchio. Noi siamo stati costretti per le vicende che descriveva PINMA l'assessore Donini a usare questo modello organizzativo anche in ospedali. In ospedali più piccoli, naturalmente, ma che avevano una casistica di accesso al pronto soccorso sostanzialmente sovrapponibile per complessità medio-bassa a quella che immaginiamo avverrà presso la struttura di Casalecchio. Quindi noi abbiamo un po' rodato il nostro meccanismo a partire dal 1 novembre, inaugurando il modello organizzativo del CAO presso l'ospedale di Budiro, l'8 novembre presso l'ospedale di Vergato. Entrambe queste due modelli organizzativi, ancora sperimentali per noi, nel senso che non hanno ancora un consolidamento di attività molto lunga, perché parliamo di un mese e mezzo, però stanno dando risultati che ci aspettavamo. Innanzitutto alla domanda che ha detto Soria Donini la gente ci va, la gente ci va, apprezza il servizio, sostanzialmente gestiamo quei codici appropriati, ma abbiamo studiato dei meccanismi che qualora succedano delle cose più complesse, c'è la presa in carico del servizio 118 e porta la persona dove serve nel minor tempo possibile. Ecco, con questo spirito, con questo percorso, siamo arrivati a questo risultato grazie a un lavoro di squadra molto articolato che ha visto da un lato dei giovani medici prevalentemente che si sono messi in gioco e questo è molto positivo perché il modello delle cooperative o dei medici a gettone ha oltretutto il limite che non è un investimento di medio-lungo sulla comunità dei professionisti di quell'azienda dove si pratica questo modello. Noi l'abbiamo mai percorso, per fortuna, nel senso che non siamo stati costretti a ricorrere il modello delle cooperative dei medici a gettone perché abbiamo ritenuto più prezioso informare e formare i nostri giovani medici e questi che lavorano nei CAO sono dei medici che hanno avuto una formazione aggiuntiva di quasi 80 ore all'incirca tra esperienza teorica e esperienza pratica affiancata da medici esperti di medicina d'urgenza e questo investimento aggiuntivo riteniamo che sia il ritorno alla comunità dei professionisti dell'azienda ma anche dei cittadini migliore perché sono medici giovani che intendono radicarsi presso i comuni e le realtà dell'area metropolitana di Bologna in pratica sono un investimento per il futuro di questa sanità. Ricorrere a soggetti esterni con medici che fanno un turno di 12 ore e vengono da città lontane danno sì una risposta temporanea ma creano dei problemi a medio-lungo. Ecco, in questo mese e mezzo abbiamo constatato, toccato con mano questa partecipazione e anche entusiasmo dei giovani io sono ritornato stamane a Budrio dopo un po' di tempo per vedere come andava e ho visto un clima molto positivo un grande senso di affiattamento un grande senso di affiattamento tra medici e infermieri medici e infermieri esperti che abbiamo selezionato prendendoli da quelli che già lavoravano nel sistema dell'emergenza e urgenza ecco, crediamo che questo lavoro preparatorio sarà utile a Casalecchio che sarà il quarto CAO che noi attiveremo come dalla programmazione approvata nella conferenza territoriale quindi andremo a compimento degli impegni che ci siamo presi per cui con fiducia e anche con un po' di entusiasmo noi ci affacciamo a questa esperienza un po' forti del lavoro che abbiamo fatto in questi mesi vi ringrazio Allora, adesso diamo la parola alla dottoressa Camplone e al dottor Fini prego Buonasera a tutti e a tutti ringrazio innanzitutto il comune il sindaco Bosso l'assessore, l'assessorato la direzione generale per questa opportunità che mi permette in qualche modo di cogliere l'occasione di introdurre il CAO all'interno di quella che è la rete territoriale distrettuale in premessa di parlare anche un attimo di come si sta sviluppando il nostro territorio noi abbiamo un distretto solido quindi con cinque comuni in cui ci sono due ambiti territoriali uno dei quali ha come fulcro il comune di Casalecchio dove abbiamo la casa della salute hub, quindi centrale di Casalecchio abbiamo poi la parte di Sasso dove abbiamo un'altra casa della salute Spock dall'altro lato invece abbiamo l'ospedale di Bazzano dove stiamo costruendo con finanziamenti PNRR un'altra casa della salute che diventerà casa della salute hub di cui quella di Zola sarà Spock quindi in una logica in un sistema di rete questo consolida il nostro territorio e il CAO si inserisce all'interno di un assetto ben strutturato dove i servizi sono effettivamente di prossimità entrando nel merito del CAO il CAO appunto è una struttura pienamente collocata all'interno dell'assetto territoriale e ci permette di sviluppare ulteriormente quella che è la nostra casa della salute all'inizio il sindaco Bosso diceva si trasformerà in casa della comunità questo appunto è un processo che condurremo nell'anno nuovo anche dal punto di vista comunicativo in maniera sostanziosa ma è un processo nel quale il CAO è proprio un protagonista perché ci permette di dire che nella casa della salute quindi nella casa della comunità ci sarà una porta sempre aperta dove il cittadino potrà trovare H24 sette giorni su sette una risposta qualificata medico-infermieristica ai propri bisogni di natura non emergente non complessa ma comunque bisogni che il cittadino avverte come come importanti noi diciamo spesso nella diciamo come organizzazione sanitaria parliamo spesso di inappropriatezza cioè i cittadini che si rivolgono inappropriatamente al pronto soccorso però il bisogno non è mai inappropriato siamo diciamo noi come organizzazione dei servizi che abbiamo dovuto trovare una risposta adeguata e appropriata a quelli che sono i bisogni che i cittadini effettivamente avvertono come come rilevanti nella loro nella loro vita sebbene non non emergenti non che non mettono a rischio la la propria vita quindi il CAO prova a rispondere a a questo livello di bisogni entrando nel merito della nostra del nostro CAO ecco il CAO si si colloca all'interno della casa della salute nella palazzina B per farvi capire dove c'è il punto il punto prelievi la guardia medica quindi entrando dalla stessa porta di accesso di quella palazzina B mi alzo scusate che vedo meglio sarà accolto ecco avanti sarà accolto da da un infermiere che valuterà insomma l'appropriatezza i bisogni di questo paziente per poi farlo farlo accedere e riferirlo alla parte medica non ci sarà un livello di priorità come magari siamo abituati a vedere in pronto soccorso quindi si seguirà un ordine di arrivo che cos'è il CAO come ha detto prima l'assessore posso si può tornare ecco dico di andare avanti il CAO è un'organizzazione quindi ha degli spazi dedicati c'è un'equip medico-infermieristica c'è una dotazione strumentale di base con otoscopio materiale per suture c'è un ecografo un ECG connesso con l'ospedale maggiore quindi in tele-refertazione e abbiamo anche una serie di prestazioni che potranno essere fruite con dei percorsi all'interno della Casa della Salute in collaborazione con Medipass andiamo avanti come è stato detto è stata fatta una formazione ad hoc c'è un monitoraggio ad hoc avanti di tutto quello che avviene in modo da capire bene perché si tratterà comunque di una sperimentazione entrando nel merito di quelli che sono i criteri di accesso al CAO quindi il CAO è rivolto ad una popolazione che si può recare autonomamente e come diciamo noi in maniera verticale quindi con le proprie gambe presso questa struttura con problemi di natura lieve ma comunque urgente quindi con bassa criticità e bassa complessità dal punto di vista organizzativo del percorso clinico e diagnostico ma che comunque il cittadino avverte come urgenti andiamo avanti noi all'interno del CAO avremo una serie di pannellature che in maniera molto chiara molto diretta molto esplicita esemplificheranno quelle che sono le casistiche per cui un cittadino dovrebbe rivolgersi al CAO provando a sintetizzare potrei dire che quando si avverte un dolore di natura lieve potrebbe essere un motivo per recarsi al CAO un'ustione dei piccoli traumi agli arti inferiori agli arti superiori qualcosa di lieve ma che comunque richiede un approfondimento diagnostico tutto questo rientra all'interno della casistica abbiamo anche febbre o infezioni infiammazioni che devono essere giustamente inquadrate quindi quando è che invece avanti il cittadino non deve assolutamente recarsi anche questo è molto importante e vi chiediamo tra l'altro un aiuto per divulgare questa cultura questa nuova cultura all'interno della cittadinanza cioè quando è che non bisogna recarsi al CAO sicuramente quando si ha un dolore toracico è stato già detto prima quando si ha una difficoltà respiratoria acuta quindi una dispnea un dolore addominale acuto molto importante oppure dolori di testa cefalea inusuale improvvisa oppure un improvviso cambio della sensibilità dei disturbi neurologici riferiti all'equilibrio al coordinamento confusione mentale ecco questi sono sicuramente sintomi da non sottovalutare per cui è bene invece rivolgersi al pronto soccorso andiamo avanti che cosa ci si può aspettare come prestazione all'interno del CAO sicuramente una visita medica anche un insieme di certificazioni dei trattamenti farmacologici avremo un'area dedicata con dei lettini dove si potranno fare anche delle terapie infusive delle flebo è possibile anche che si riceva una prescrizione di una terapia di nuova insorgenza o che comunque richiede la prescrizione di farmaci essenziali certo non terapie continuative non terapie croniche perché per quelle bisogna giustamente rivolgersi al proprio medico si possono anche seguire delle procedure chirurgiche minore delle medicazioni delle piccole suture ci sono la possibilità di inquadrare dal punto di vista diagnostico i problemi perché saremo dotati del cosiddetto POCT cioè degli esami ematici point of care quindi con la possibilità di avere una risposta immediata c'è la possibilità di trattenersi di essere osservati nel post trattamento e anche di attivare dei percorsi di approfondimento diagnostico il personale che si troverà all'interno del nostro CAO sono due medici in orario diurno e un infermiere mentre di notte avremo un medico e un infermiere i medici sono appunto come è stato detto medici della continuità assistenziale medici del ruolo di assistenza primaria mentre gli infermieri afferiscono all'area dell'emergenza avanti passerei la parola al dottor Fini che ci descrive il percorso del paziente all'interno del CAO le tre fasi fondamentali del percorso sono l'accesso e la prima valutazione la prima valutazione viene fatta da un infermiere formato ad hoc che dico subito non rimanda indietro i pazienti che non hanno le caratteristiche da CAO quindi tranquilli perché i pazienti vengono comunque valutati se le problematiche sono problematiche maggiori dopo si attiva un percorso di valutazione del paziente presa in carico del paziente momentanea in attesa dell'arrivo del 118 oppure lo si gestisce all'interno con una presa in carico presa in carico che poi viene gestita dai medici con l'aiuto dell'infermiere con la valutazione se fare eventualmente come si era già detto degli approfondimenti diagnostici oppure se gestirlo con una banale terapia e chiudere l'episodio in quanto il paziente non viene preso in carico ripetutamente non è un cronico il paziente entra presa in carico chiusura e rinvio al domicilio salvo necessità di ricoveri o di altre prestazioni durante il percorso diagnostico il paziente attende il risultato chiaramente in caso sia necessario un esame del sangue viene fatto lì il paziente esce e aspetta l'esito oppure una radiografia qui a Casalecchio possono essere fatte in urgenza le radiografie dal lunedì al venerdì dopodiché invece nel fine settimana se la radiografia non riveste carattere di urgenza il medico fa la prescrizione oppure viene inviato all'ospedale maggiore lo stesso discorso vale per la somministrazione dei farmaci se il medico valuta necessario un'infusione una qualsiasi somministrazione il paziente viene messo in sala di osservazione dove viene gestita la terapia fino a chiusura dell'episodio avanti vabbè c'è l'eliminacoda all'entrata viene fatta la prima valutazione e la sintomatoga l'ho già detto questa è l'area dell'edificio B dedicata al CAU per essere più chiari questo è l'ingresso del punto prelievi qui c'è l'accettazione dopo di che c'è la sala d'attesa e ci sono gli ambulatori e quelli da sopra sono gli ambulatori e la sala osservazione e questo è un altro ambulatorio quello di sopra è lo spazio dedicato alla continuità assistenziale che avrà soprattutto indicazione di attività sul domicilio dei pazienti avanti bene questo anche questo l'ho già detto eventuale attivazione del 118 per il mio in PS preso in carico di problemi urgenti non trattabili in CAO oppure il paziente con problema non urgente che con sintomatologia che non rientra nei criteri di accesso lo rinvia al medico di medicina generale perché lo continui a seguire come di norma il paziente vabbè l'ordine di chiamata questa è la regola generale è chiaro che se si vede un paziente che ha delle problematiche diverse e questo viene valutato così al volo grazie all'esperienza degli infermieri che stanno all'accettazione viene fatto preso in carico immediatamente chiaramente saltando la fila visita medica un panel di esami diagnostici limitato non è che si fa di tutto si fanno gli esami necessari per una valutazione rapida e poi terapie farmacologiche può prescrivere gli approfondimenti specialistici può fare richiesta di visite specialistiche esattamente come fa il medico di medicina generale con gli stessi principi e con gli stessi criteri del medico di medicina generale criteri che sono dati da delle linee guida praticamente date dalla regione criteri di appropriatezza in base ai quali poi il medico valuta che tipo di urgenza scrivere sulla richiesta può rilasciare certificati in caso di necessità esami di laboratorio già detti l'ICG è già stato detto prima in collegamento con i medici dell'ospedale maggiore quindi viene fatto e viene refertato in linea diretta con l'ospedale maggiore indagini radiologiche ci sono le radiografie che sono radiografie complete normali che vengono fatte normalmente e anche ecografie che vengono fatte con un ecografo fast quindi non un'ecografia diagnostica vera e propria ma un'ecografia per dirimere certe situazioni eventualmente poi si può fare una richiesta ulteriore questi sono quello poi praticamente che ci siamo già detti l'invio al PS le prestazioni di U a 72 ore per le necessità di otorino oculistica dermatologia cardiologia con l'invio all'ospedale maggiore o la dermatologia all'ospedale Sant'Orsola oppure prestazioni non urgenti con altre tempistiche che vanno prenotate a CUP seguendo il percorso normale che un paziente fa quando esce dall'ambulatorio del medico di medicina generale ecco l'esito della prestazione specialistica dovrà essere valutato dal medico di medicina generale o pediatra di libera scelta perché i CAO sono accessibili anche ai bambini al di sopra dei 6 anni e il medico di medicina generale chiaramente o pediatra di libera scelta rimangono in riferimento per ogni cittadino quindi il paziente non ha necessità di ritornare al CAO ma dopo si può rivolgere direttamente al proprio curante anche questo è già stato detto può rilasciare certificati queste sono le attività infermieristiche che vengono svolte all'interno dei CAO medicazioni bendaggi rimozione di punte gestione di cateteri quindi sono prestazioni che vengono effettuate anche dalle dal gruppo degli infermieri degli specialisti ambulatoriali che abbiamo nelle case della salute o in caso di necessità poi vengono presi in carico i pazienti dagli infermieri del servizio infermieristico domiciliare tramite attivazione del pick up che è il punto di coordinamento dell'assistenza primaria che si trasformerà in incot a breve seguendo una linea generale che prevede appunto questa nuova denominazione e nuove funzioni quindi per garantire il proseguimento delle prestazioni dunque il referto cao con ricetta dematerializzata di farmaci non vengono somministrati i farmaci all'interno del cao nel momento della prestazione durante la presa in carico ma il paziente non esce con il farmaco in mano il paziente esce con la prescrizione dematerializzata del farmaco o della prescrizione e eventuali approfondimenti sono poi di gestione del medico di medicina generale il referto sarà il paziente lo ritroverà sul fascicolo sanitario il medico lo ritroverà sulla cartella sole quindi queste sono diapositive che non conosco proprio bene attività del cao rivolta a tutta la popolazione residente compresi tutti i domiciliati la visita medica sono esenti dal ticket le prestazioni che vengono fatte all'interno della presa in carico del paziente sono esenti ticket a parte certe radiografie ma la prestazione è esenti ticket gli esami che vengono fatti esami del sangue col POCT sono esenti ticket le ecografie diagnostiche fast sono esenti ticket invece le prestazioni che vengono erogate a chiusura del percorso cao sono assoggetate al pagamento del ticket esattamente tanto quanto le prescrizioni che vengono richieste dal medico di medicina generale i residenti fuori regione devono pagare una tariffa di 20 euro d'accesso ecco io ho chiuso vorrei aggiungere solo una piccola cosa il coordinamento come è stato detto è delle cure primarie proprio per approfondire questo concetto delle cure territoriali ci sarà un coordinatore qui a Casalecchio delle cure primarie che sarà il dottore Samposcardelli che è qui ci sarà un coordinatore infermieristico che è il dottor Torella e ci sarà un coordinamento dei medici cao che è ancora da definire perché proprio siamo a partenza grazie un applauso al direttore generale Bordone dottoressa Camplone dottor Fini prego Francesco so che adesso c'è un spazio particolare per quello che riguarda le associazioni di volontariato grazie grazie un altro applauso direttore la direttrice e al dottor Fini per l'importante contributo assessore se rimani qua un attimo con me perché adesso io voglio chiamare come hai giustamente detto adesso è un momento che abbiamo fortemente voluto per riconoscere per un ringraziamento pubblico della città alle associazioni che operano nel campo sanitario per l'operato che svolgono quotidianamente che hanno svolto come dicevamo prima durante l'emergenza covid ma che svolgono quotidianamente anche in tempo di pace lo dico così per la nostra città e in generale per tutto il territorio per premiare io chiamerei anche il sindaco di Casalecchio Ereno Massimo Bosso che torna sul palco e anche l'assessore alla partecipazione al volontariato Matteo Ruggeri un ringraziamento particolare anche a Marilena Fabri che a livello di assessorato alla sanità coordina tutte le associazioni sanitarie grazie Marilena Bene Sindaco non so se vuoi aggiungere qualcosa Sì sì voglio ringraziare ancora a nome della comunità tutta l'associazione di volontariato perché ripeto io mi ricordo il periodo del covid quando non avevamo ancora le mascherine io trovavo nelle associazioni un supporto fondamentale per la distribuzione appena sono arrivate non c'erano i volontari più anziani perché non si poteva sopra i 65 fare attività in base alle norme regionali ma avevamo imbarcato anzi avevate imbarcato un sacco di giovani che non facevano niente ed erano lì a preparare e poi ci hanno dato una mano grandissima anche negli hub vaccinali che abbiamo aperto perché lo ricordo ne abbiamo aperti diversi l'ultimo per vaccinare tutta la zona mettendo in piedi nella nostra sede di Adopera con un cappannone in una settimana abbiamo sistemato e credo molto bene i volontari ci davano una mano anche in questo quindi veramente è una rete quella del volontariato che è collegata all'ente locale alla sanità e al sociale che gestiamo assieme diventa più forte perché ci sono i volontari che hanno sempre un qualcosa in più perché lo fanno con il cuore magari non sono dei medici degli infermieri ma facendolo con il cuore sono vicini anche a quelli che aiutano si interfacciano e quindi anche chi sta male sta un po' meno male diciamola così quindi grazie davvero grazie grazie sindaco assessore Ruggeri in realtà ti chiamiamo Matteo perché qua non si può sentire assessore Ruggeri no scherzo Matteo con le associazioni abbiamo lavorato in questi anni molto e abbiamo fatto un lavoro molto importante che tu hai guidato a nome del sindaco sì con il volontariato io ho seguito il volontariato in anni particolari perché insomma sia lo sport che il volontariato in anni particolari in anni in cui si è dovuto chiudere anziché aprire ed è stata insomma un'esperienza all'inizio come per tutti un po' provante perché insomma quando inizi questo tipo di attività pensi sempre a nuovi progetti a cose da fare invece ci si è trovati a dover riorganizzare tutto e durante il periodo del covid chiaramente le associazioni di volontariato che maggiormente che hanno potuto che sono potute rimanere aperte che maggiormente si sono occupate di poter fare volontariato poter assistere le persone a domicilio ricordo che anche io stesso sono andato a imbustare le mascherine alla pubblica c'è qui Lorenzo che se lo ricorda ho girato anche con la macchina del comune per andare a portare le mascherine a fare gli avvisi di rimanere in casa e insomma davvero quegli anni secondo me sono stati un pochino in fretta dimenticati come diceva prima Raffaele e invece ci sono stati dei volontari delle persone che appunto sono stati indispensabili anche in quei momenti quindi tenevamo a ringraziarli ancora porto anche i saluti del vice sindaco Masetti perché lui si occupa di welfare che oggi a proposito è ammalato quindi non riesce a essere qui a domicilio però ci tenevo comunque a dirlo e a portare anche i suoi saluti e davvero insomma volevamo darvi questo piccolo grazie ringrazio Raffaele e tutti i dirigenti ASL anche per quello che hanno illustrato oggi perché sarà davvero una cosa importante per Casalecchio e per tutti i comuni del nostro territorio e della nostra unione vedo qui il sindaco dall'uomo di Zola Predosa ma sarà davvero il caos sarà davvero un'innovazione importante per tutti quanti noi e per la nostra salute grazie saluto anche l'assessore Abevacqua che è in prima fila abbiamo parlato di tutti i lavori che abbiamo fatto anche grazie all'assessore al bilancio che ha lavorato per tutto ciò bene allora adesso passiamo a chiamare le associazioni una dopo l'altra adesso io tengo guarda facciamo così questo ultimo molto bene così lo consegnate insieme partiamo da là e quindi non ci può che essere l'Avis un applauso conoscete tutti l'associazione che si occupa di donazione del sangue e di tanto altro guardate sempre davanti a voi che facciamo una bella foto prego bene grazie molte ma potete rimanere con noi rimanete con noi dai stiamo qua no no ma state pure qua state vicino così dopo facciamo una bella foto bene andiamo avanti con l'ant ho visto qualcuno eccoci è poco più avanti aspetta associazione importantissima che compie un grande lavoro per l'assistenza domiciliare ai malati di tumore vicino facciamo una foto ecco facciamo un grande applauso via scaldiamoci le mani via cogliamo l'occasione grazie grazie molto ora chiamo i rappresentanti della Lilt li ho visti ho visto qualcuno c'è Ghino l'ho visto Ghino vieni tu un grande applauso c'è neanche degli altri infatti però esatto esatto Ghino ti eri distratto facciamo una foto mentre ti consegnano grazie adesso mi sposto di qua così occupiamo anche di qua dall'assessore bene andiamo avanti con la pubblica assistenza di Casalecchio di Reno sono qui in prima fila fanno venite pure di qua venite pure di qua dopo la pubblica assistenza ovviamente chiamiamo anche la croce rossa italiana che abbiamo visto se mi vedete sparire a un certo punto sono qua dietro perché a forza di andare indietro a un certo punto non mi vedete più ma non vi preoccupate finalmente una donna esatto ha maggior ragione ah ma le donne ci sono nelle associazioni ci sono ci sono bene poi chiamiamo adesso chiamiamo altre associazioni magari non so se ci siano tutte l'associazione Amici c'è qualcuno o no gli facciamo comunque un grande applauso associazione nazionale per la malattia infiammatoria cronica dell'intestino l'ANMIC non c'è nessuno però facciamo un applauso poi daremo a tutti un'altra associazione importantissima che svolge un ruolo molto importante anche alla Casa della Salute l'Auser c'è qualcuno eccola esatto svolgono un ruolo fondamentale di smistamento di aiuto di indirizzamento di mascherinamento a tutti quelli che non ce l'hanno soprattutto esatto bene l'associazione Ciami eccoci grazie i pazienti italiani affetti da sindrome di iperbilurubinemici difficilissimo molto complicato grazie venite pure di qua l'istituto Ramazzini non so se c'è qualcuno ma gli facciamo un grande applauso per il grande lavoro che fanno di ricerca nella lotta contro il cancro e le malattie ambientali un'associazione nata a Casalecchio che poi ha sede oggi a Bologna ma che è ancora attiva a Casalecchio gli onconauti eccoci svolgono un grande ruolo sulla riabilitazione integrata oncologica e il sostegno dei malati oncologici eccoci grazie e poi l'Aido non so se c'è qualcuno no ok un applauso anche a loro bene un altro grande applauso a tutte queste associazioni facciamo un'ultima foto sorridete molto bene grazie vi salutiamo prego 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 un altro grande applauso via mentre scendono fa sempre brodo bene molto molto bene sei un po' ripita quella scaletta sì sì ma è per testare spera il cavo subito testiamo il cavo subito sulle ingessature lo testiamo bene sindaco assessore siamo stati rapidi e speriamo anche efficaci sì spargete anche la voce voi no se siamo stati chiari più possibile spargete la voce volevo dire volevo dire una cosa a cui tengo molto questo è un distretto a cui io sono inutile dire particolarmente legato e devo dire che dal PNRR in poi noi stiamo rafforzando molto la parte territoriale perché a Bazzano ci sarà la realizzazione della nuova casa della comunità accanto all'ospedale l'ospedale di comunità per quelle persone che sono soggette a cure intermedie cioè che non sono più da ospedalizzare ma non sono ancora pronte per il domicilio o che non riescono più a stare a domicilio ma non sono ancora da ospedalizzare ed è molto importante perché le cure intermedie sono un tassello fondamentale per la sanità territoriale ci sarà anche in programmazione un ospedale di comunità anche a Casalecchio nella prossima lenzuolata diciamo così degli investimenti anche perché risente del cantiere che in qualche modo insomma mi sento un po' complice di quel cantiere lì comunque ce la facciamo e poi la manutenzione straordinaria a Zola Predosa della casa della comunità qui c'è anche l'assessore Occhiali e la mi pare a Sassomarconi un intervento anche presso la casa della comunità poi poi c'è l'assistenza domiciliare perché noi dobbiamo prenderci l'impegno anzi c'è stato dato l'impegno a livello nazionale di arrivare al 10% di presa in carico per gli ultra 65enne che non si devono chiamare anziani perché se chiami anziani un ultra 65enne ti querela e ha ragione io li chiamo ultra 65enne no? quindi l'obiettivo è quello di prendere in carico una quota del 10% degli ultra 65enne come assistenza domiciliare qui c'è la dirigente Franchi noi siamo già al quanto siamo? vicino al 10? ecco tanto che dovremmo esserci nel 2026 ci siamo già oggi e il governo per premiarci ci ha detto di arrivare al 12 e quindi dovremmo fare ancora un po' di strada ma questo aumenterà diciamo la media nazionale e quindi tanti investimenti che si riassumono però anche in una battaglia comune è stata richiamata dal sindaco giustamente all'inizio quella della sostenibilità del sistema sanitario nazionale e regionale delle regioni in particolare anche quest'anno noi con grande fatica chiuderemo il bilancio in pareggio per cui con buona pace di chi vuole commissariarci anche quest'anno noi abbiamo salvato il sistema sanitario dell'Emilia-Romagna ma sempre con una situazione di fatica perché sono 4-5 anni che prima non ci sono stati dati i soldi covid poi non ci sono stati dati i soldi per le vaccinazioni poi gli aumenti del fondo sanitario sappiamo che sono dedicati e vincolati all'aumento dei costi contrattuali degli accordi contrattuali quindi insomma noi siamo ancora lì in battaglia e pensiamo che debba essere questa una battaglia a fondamento della sanità pubblica che sia istituzionale politica per chi ci sta professionale perché tanti professionisti ci stanno aiutando in questa nostra battaglia anche sindacale e popolare perché la sanità è di tutti quindi non è una battaglia contro qualcuno ma è una battaglia per salvare il sistema sanitario nazionale pubblico e universalistico grazie grazie assessore l'appuntamento con tutti voi è appunto l'11 il 18 alle 11.30 per l'inaugurazione del CAO e insomma speriamo che questa serata sia stata utile buonanotte a tutti grazie a tutti